abbiamo iniziato giornata di aggiornamento primo appuntamento dell'anno 2020 allora stacco gambe tese ricordate che comanda bacino spingere bacino indietro gambe tese non è obbligatorio toccare pavimento la ghiera dipende da vostra lunghezza principale femorale spingo bacino indietro più possibile e ghiera va al centro dei vostri piedi senza piegare gambe adesso stacco rumeno con gambe sincronia spingo bacino dietro gambe leggermente si flettano e spalle vanno portate in avanti braccia con peso a piombo vanno giù mezzo le gambe dinamica dinamica lavoro respiro scendo inspiro prolungato inspiro salita espiro qui lavoro lento perciò battito non sale molto tirata mento per utilizzare anche scapole dovete toccare con mani sotto colo eccolo questo lavoro e qui consigliato doppio ciclo fu 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 trovate in una comoda posizione per fare front squat, inspiro, espiro, dinamica lavoro, scendo, inspiro, espiro, battito sale, doppio ciclo, in discesa, breve inspiro, espiro, in salita, breve inspiro, espiro, adesso protasca, non fermarsi, andiamo, andiamo, ancora un minutino, lì, protasca, tre cicli respirazioni, vedete, noi lavoriamo già qualche minuto, battito sale, respirazione, respirazione, tre cicli, ok, e testa avanti, quando scendo, fondo la gira, guarda in avanti, spingere più dietro possibile per migliorare mobilità, lavorano tutti i stabilizzatori, degli alti superiori, ok, swing alternato, swing alternato, esercizio per rilassamento, praticamente il continuo del percorso, il continuo del circuito, swing alternato, vi dà possibilità di asciugare le mani, se sono sudati, scaricare un braccio al momento che si fa un swing, con un braccio impegnato, quel momento, ok? Stefano Patuglia, esame secondo livello, slancio, esame ottimo, un po' andate nelle dimensioni, entrate le mani a 70 kg, con il peso più da 16 kg, pronti? Tre, due, uno, vai! E voi, ragazzi, allora, uno, è inserito quello che abbiamo fatto bene, due, tre, quattro, e non è inserito? C'è un po' andate? Poi, stavate. Segno. Segno. Oppure. No, ugri. Inizio. 12 12 13 14 15 17 7 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 28 28 28 28 28 28 29 29 30 25 25 25 26 25 25 25 Grazie a tutti. 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 33, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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